Una serata di emozioni, di beneficenza, di gratitudine per i medici e gli infermieri che operano all'interno del reparto di onco-ematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale di Taranto, a cui è stato devoluto interamente l'incasso. Tutto esaurito per il concerto Insieme per Simba, giunto alla quarta edizione organizzato dall'associazione Simba ODV, presieduta da Deborah Cinquepalmi. Sul palco del Teatro Orfeo sono saliti Mauro Pulpito nella veste di presentatore, Francesco Cicchella e Neri per caso, media partner nella serata all'Oionio e Antenna Sud. La città ha risposto, siamo quasi al sold out, io voglio sperare e ci credo che sia per gli artisti ma anche per la nostra causa, quindi noi questo evento lo facciamo chiaramente per sensibilizzare sul tema dei bambini oncologici, quindi insomma raccogliamo sempre la solidarietà della città. Sono felicissimo e ringrazio la Presidente per aver pensato nuovamente a me, il tutt'uno che si crea con il pubblico. Quando di mezzo ci sono cause come questa c'è sempre un valore aggiunto, poi insomma mettere a disposizione la propria arte, la propria immagine per cause come questa, dà sempre un'emozione in più a quello che è già la magia di stare sul palco.